Buonasera, mi chiamo Sattori Fulvio, sono lo chef del ristorante Alcimboldo. Questa sera andiamo a preparare un filetto di persico con limone, capperi e pomodorini. Filetti di persico, un po' di farina bianca, del limone, dei pomodorini e dei capperi e un pochino di prestemolo. Partiamo mescolando un po' di concassè di pomodoro, dei capperi e del limone tagliato a cubetti. Sulla padella calda aggiungiamo un pochino di olio extravergo, infariniamo i filetti di persico. Li risolviamo. Bastano pochi minuti che sono tonti. Spendiamo il fuoco, un goccino d'olio, ci mettiamo il limone, il capperi e il pomodoro. Salpiamo bene. Ed è pronto. Un pochino di prezzemolo. E volendo un filino d'olio ancora. Il piatto è pronto. Buon appetito dal ristorante Alcimboldo. Buon appetito dal ristorante Alcimboldo. than francese. Grazie.